Noi Fiorai siamo molto bravi e creativi nel nostro mestiere. Siamo capaci di fare cose bellissime, ma dobbiamo anche sapere come venderle ai clienti e loro devono sapere quello che abbiamo da offrire. Il primo contatto con il cliente è la vetrina. Faccio sempre in modo di avere un bel allestimento, come ora con i cavoli ornamentali e le sassicce affumicate. Con decorazioni del genere ci si fa pubblicità gratis. L'iniziativa Ride for the Roses, ad esempio, ha prodotto un bellissimo articolo sul giornale. Nel mio negozio non tengo molte piante, ma cerco sempre di avere la pianta d'appartamento del mese. L'ufficio dei Fiori lo nota e così riesco ad approfittare anch'io delle iniziative collegate. Occasioni che colpo volentieri sono le campagne generiche, ad esempio quelle dell'ufficio dei Fiori. Io le adatto al negozio e cerco di dare il mio tocco personale e questo commercialmente paga. Mi scusi, se vuole può andare sul nostro sito e votare il suo fiore preferito. Compili questa cartolina, ce la consegni in negozio e potrà vincere un fantastico bouquet del suo fiore preferito. Grazie. In bocca al lupo! Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Così trasferisco le iniziative dell'ufficio dei Fiori nel mio negozio. Grazie a tutti.